Gentili telespettatori, buona giornata. Se anche a casa Travaglio descrivono Giuseppe Conte così, allora significa che forse il capo, anche lì tra virgolette, del Movimento 5 Stelle è sulla via del tramonto, perché abbiamo la classica vignetta di Vauro sul Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. Voi sapete che Travaglio è uno dei primi fans di Giuseppe Conte, non si è mai capito il perché, o forse si capisce troppo bene. Il Movimento 5 Stelle è l'elettorato di riferimento del Fatto Quotidiano, pertanto lui deve incensare tutto quello che gira intorno al Movimento 5 Stelle, perché è un po' un giornale di partito. Il suo elettorato, quelli che leggono i suoi articoli, sono dei grillini e pertanto chi paga le pubblicità è in base alle visualizzazioni e perde l'elettorato grillino significa la fine per questo giornale. Ma Giuseppe Conte, presunto leader, perché ci sarebbe lo stallo, con Grillo non si parlano neanche più, parlano tramite degli intermediari. Voi sapete che lo statuto nuovo del Movimento 5 Stelle è pronto, doveva essere presentato a momenti, ma ricordiamoci che lo statuto nuovo deve essere firmato da Grillo, deve essere approvato da Grillo il nuovo statuto e questa è la condizione per fare nuovi statuti. Grillo non vuole firmare e approvare uno statuto dove Conte ha ipotizzato una sua uscita di scena. Lui non può più parlare di politica, non può intromettersi nella politica, così Conte avrebbe mano libera di cancellare il secondo mandato, fare felice i 5 Stelle, che direbbero Conte, Conte, ecco, lui vorrebbe essere un po' come Silvio, no Silvio? Ecco, però non glielo permetterebbe il comico genovese, così c'è stallo e pertanto parliamo di presunto capo politico alla guida del Movimento 5 Stelle. Beh, invece siamo ancora qua ad aspettare il Giuseppe con un Vito Crimi reggente, un Luigi Di Maio che tra pentimenti per l'essere stato manettaro e messaggi a ceto medio e imprenditori cerca un improbabile riposizionamento in politica, non nel Movimento 5 Stelle, con molta probabilità. Poi ci sono stati problemi con Rosso, Casaleggio, gli iscritti, la lista, si deve ancora votare perché l'elezione a capo politico di Giuseppe Conte deve passare attraverso quella nuova piattaforma che hanno detto che si chiama, se non sbaglio, Odù. Si passa da Rosso a Odù. Bello, eh? Dunque, tutto è stato sospeso, fermato. Lui adesso è una sorta di capo politico senza niente, nel senso chi dice che adesso può parlare a nome del Movimento se il garante non gli parla più? Non è più legittimato chi dice che lui adesso parla a nome del Movimento, però. In effetti andiamo al Fatto Quotidiano. Proprio per questa attesa se ne parla anche in prima pagina sul Fatto Quotidiano. Certo si dà conto della notizia. Statuto 5 Stelle, Grillo ferma Conte e fa slittare l'evento. Ma soprattutto a parlarne è Vauro, il classico vignettista che noi lo ricordiamo per la presenza assieme a Travaglio nelle trasmissioni di Michele Santoro, non ve lo ricordate? Il trio Santoro-Vauro-Travaglio. Beh, il vignettista al Fatto Quotidiano, lui che si definisce l'ultimo comunista d'Italia, che sulla prima pagina fa una sua vignetta e scrive proprio così, una sorta di critica ma pesante, proprio sul giornale di Marco Travaglio che è il capo ultra del fronte contiano o giuseppiano. Il titolo della vignetta è questo. E Conte? Punto di domanda. Svolgimento. Un quadrato bianco. In calce il commento. C'è ma non si vede. Colpito e affondato il Giuseppi. Circostanza assai strana sul Fatto Quotidiano. C'è ma non si vede. C'è ma non è legittimato. Adesso lui parla a nome del Movimento 5 Stelle ma chi lo sponsorizzava come capo politico ha ritirato la sua sponsorizzazione di fatto. Non gli parla neanche più. E ritirando la sua sponsorizzazione, non potendo modificare lo statuto, non si può votare per il nuovo capo politico e pensate un po'. Questo sarebbe il primo partito italiano perché nel 2018, anche se a qualcuno di voi non piace questo, nel 2018 il Movimento 5 Stelle ha vinto le elezioni. È stato il partito più votato. So che è dura ma è così. Non siamo qui a raccontarci le storie di Cappuccetto Rosso e della fata turchina. Pertanto pensate un po' che il primo partito italiano, in base alle elezioni del 2018, visto che altre elezioni non sono state ancora fatte, non ha un capo politico, non ha uno statuto, non ha né arte né parte, non prende decisioni, non ha idee economiche e politiche, però ha uno stuolo di seguitori che non sono ovviamente i grillini della prima ora ma sono i fruitori del reddito di cittadinanza. C'è un esercito di votanti formato da persone che tramite una sorta di voto di scambio io ti voterò e spero che tu rimanga al governo per garantirmi la continuazione del reddito di cittadinanza perché cade il governo, ne arriva uno nuovo, la prima cosa che fa è cancellare il reddito. Non lo cancellerà, attenzione, da un giorno all'altro. Farà una sorta di discesa. dirà, si pagherà ancora per 5 mesi, al secondo mese verrà ridotto all'80%, al terzo mese al 60%, al quarto mese al 50%, al quinto mese vi ti do solo il 30% di quello che prendevi, così ti do il tempo di svegliarti dal divano e dire devo andare a cercare un lavoro perché sta finendo il reddito. Ecco, questo è quello che succederà. lo dicono anche gli uccellini, li sentite? Cippeciop, cippeciop. Vabbè, a parte cippeciop tricotraco, c'ho la finestra aperta, fa un caldo tremendo e si sentono gli uccellini perché c'ho gli alberi carichi di frutta. Io non la mangio, la lascio lì per loro così se la mangiano loro. Bene, grazie a tutti quanti per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti quanti, ci vediamo tra una ventina di minuti. Ricordatevi che siamo anche sull'altro canale Teleitalia, Seconda Rete, dove trovate anche lì dei video di politica, almeno uno al giorno. E poi nella community ci sono tanti sondaggi quali poter partecipare e commentare. Grazie a tutti e buon proseguimento.